Martedì mattina in Villa Gianetti si è tenuta una conferenza sulla banda ultralarga. Prima dell'estate Saronno sarà coperta da una connessione a internet più veloce, stabile ed efficace. Vediamo i dettagli nel servizio. Internet of Things è realtà aumentata cloud, ma a Saronno c'è abbastanza banda? Un quesito che scuole, imprese di information technology e operatori internet si fanno continuamente per offrire prodotti fruibili online o garantire un servizio stabile ed efficace. Le risposte sono arrivate martedì mattina in Villa Gianetti. Prima dell'estate Saronno sarà coperta dalla banda ultralarga, per intenderci connessione alla rete più rapida e più ampia. Ospiti della mattinata Gianni Moretti di Telecom, Giorgio Proietti di Fastweb e Sabrina Casalta di Vodafone che di fronte a una platea composta da autorità cittadine, professori, operatori del settore e curiosi hanno illustrato come stia cambiando il mondo e come nella nostra città si sia riusciti a stare al passo coi tempi. La fibra ottica si potenzia sfruttando i 20 km di infrastrutture già presenti in città con ulteriori 4,3 km da scavare da oggi fino alla fine dei lavori. Per mantenere il centro storico in ordine, il 20% degli armadi telefonici per l'allacciamento alla corrente elettrica saranno interrati, mentre dove attualmente ne sono presenti più di uno verranno posti in un'unica megacabina. Inoltre, per i prossimi 15 anni, 12 edifici comunali potranno usufruire gratuitamente di traffico voce e dati di banda ultralarga. Banda ultralarga che va dai 75 ai 300 Mbps in download. Si tratta del primo passo verso la trasformazione di Saronno in Smart City. Milano lo diventerà molto presto in occasioni di Expo 2015. Abitazioni, automobili e forni a microonde, tutto sarà controllabile attraverso la rete. Dispositivi, utenti e contenuti online si moltiplicano e una banda maggiormente capiente diventa sempre più indispensabile. Un percorso evolutivo così commentato dagli amministratori saronnesi. Noi recuperiamo il terreno rispetto agli altri paesi europei, perché siamo indietro. Rispetto all'Italia forse siamo in linea se non avanti. Anticipiamo quello che potrebbe essere il futuro e oggi parliamo di futuro, parliamo di velocità, dei collegamenti. Perché ci sentiamo proprio con la coscienza, il dovere di lasciare la nostra città, a chiunque saliano, a chiunque saranno i futuri amministratori, un qualcosa che li porta a ricogliere nel futuro.